Potrebbe essere custodita nei ricordi di Adele Martino la verità su quanto accaduto nell'appartamento al civico 194 di via San Leonardo a Salerno. La sorella di Maria Grazia, l'anziana di 91 anni trovata morta in casa, è però ancora in precarie condizioni di salute. In queste ore i medici dell'ospedale Ruggi ne hanno disposto il trasferimento nel reparto di neurochirurgia. Quando le sue condizioni lo consentiranno sarà ascoltata dagli agenti della squadra mobile. La polizia è a lavoro per chiarire i misteri di un delitto che ha sconvolto il quartiere della zona orientale di Salerno. A lanciare l'allarme era stata la nipote delle due anziane sorelle che ha chiesto l'aiuto di un vicino di casa. Dopo dieci minuti è tornata piangendo, gli diceva ma vieni qua mi devi aiutare, che è successo? Vieni qua, io sono entrata dentro, le mie zie non le trovo, le sto chiamando e non le trovo, c'era tutto sotto sopra. Quando sono entrata dentro ho trovato una scena, tutti i mobili sotto sopra, i cassetti, sangue a terra, mandò e poi verso la cucina c'era una porta che si portava alla cantina. Quella della rapina finita male resta l'ipotesi sulla quale si stanno concentrando gli investigatori. Secondo me sono entrato per trovare soldi o qualcosa, poi erano due ecchiette, c'avevano due cani sempre slegati, quella sera i cani erano attaccati. Intanto il parroco di San Leonardo, Don Paolo Carrano, ha ricordato la generosità e la delle due sorelle Maria e Adele, molto legate alla comunità ecclesiale della zona. Affidiamo le braccia di Dio Maria, mentre preghiamo per la pronta guarigione di Adele, perché possa tornare presto in mezzo a noi, l'appello di Don Paolo Carrano.